Tesoro? Sì? Vai tu? Lavati le mani, è pronta la cena. Sì, ci penso io! Dobbiamo andarcene, che fai? Muoviti! A che punto sei col caso scelto? Ho patteggiato. Hanno ucciso una bambina. Un po' di giustizia è meglio di niente. Devi dirlo al padre. Non riesco a capire. Uno dei due, in ogni caso, la farebbe franca. Cosa? La giuria dovrà credere a me! Ho patteggiato, mi dispiace. È così che funziona la giustizia. Qualcuno è riuscito a trasformare un'esecuzione in dolore in una specie di tortura. Hanno manomesso la macchina. Chi può essere stato? Il tuo amico l'ho ammazzato in prigione, ma a te volevo dedicarmi di persona. Vedo che il cuore ti batte forte. Anche il mio. Ha ucciso lei, Clarence Darby. Lui ha ucciso mia moglie e mia figlia. Ho finito. Avvocato, ti consiglio di annullare il pranzo con il giudice Roberts. Pronto? Vacci a parlare. Ora voglio sapere esattamente come hai fatto. Visto che tu scendi a patti con gli assassini, ora tocca a me. Liberami. Oppure? Ucciderò tutti quanti. Come il diavolo fa? Attraversa i muri. Ho trovato dei contratti pagati dal Dipartimento della Difesa. Con chi abbiamo a che fare? Una spia? Spia è ridottiva. Clyde è una mente. Il migliore. E se vi vuole morti? Siete morti. Blinderemo la città. Voglio un poliziotto a ogni angolo. È in carcere perché è lì che vuole stare. Farò crollare tutto il sistema sulla tua testa. Sarà biblico. Tu la devi smettere. Questo è solo l'inizio, avvocato.